Vice sindaco, siamo nei pressi del palazzo di città e dalle immagini emerge in maniera molto chiara la presenza di rifiuti, in questo caso cartone. Le chiedo subito perché non si interviene? Parliamo del salotto della città. Chiaro, allora questo come vedete non ci sono attività in prossimità, quindi è un punto di conferimento inadeguato. E' evidente che sono cartoni di merce in volumi, quindi afferiscono molto probabilmente a qualche attività, a qualche esercente commerciale che non ha ancora ben appreso le regole per la corretta differenziata e il corretto ritiro. Sono cartoni che non possono essere depositati qui, questo non è un punto di riferimento per depositare i rifiuti, i rifiuti vanno depositati di fronte all'esercizio commerciale, di fronte alla propria abitazione quando si tratta di rifiuti di abitazione e poi verranno ritirati normalmente. E' chiaro che nei punti in cui non ci sono attività censite è un po' più complicato, bisogna ripassare per pulire la città. E dunque saranno tolti al più presto? Verranno tolti così come vengono tolti i cumuli che si vanno formando ancora in alcune parti della città, devo dire che è sicuramente in misura ridotta in alcune parti, in altre forse in misura amplificata perché forse per sfuggire al metodo della differenziata ancora qualcuno pensa che sia possibile conferire in discariche abusive nelle zone limitriche della città i propri rifiuti. E il Giovese riesce a fare la differenziata? Allora, da quando abbiamo attivato il nuovo calendario si registrano, oltre agli episodi negativi come questo qua, dei risultati quantificati positivamente. Ad esempio, proprio nella raccolta dei cartoni si è passato da 10 tonnellate la settimana scorsa a più di 20 tonnellate questa settimana. Per la plastica si è passati appunto da circa 15 tonnellate la settimana scorsa a 30 tonnellate questa settimana recuperando una grossa frazione di metalli che è un rifiuto pregiato che registrava in passato quantitativi molto ma molto ridotti. Quando saranno invece consegnati definitivamente i contenitori per il vetro? La consegna è ancora in esercizio, è stata completata tutta la parte di Settefarine, una parte della Via Venezia. Questa settimana si dovrebbe chiudere la parte del centro storico partendo dal museo. Verranno consegnati in aree dedicate dove è anche più facile recuperare come i presidi residenziali, ad esempio la cooperativa Agave piuttosto che Roccazzelle, che sono degli agglomerati ben identificati in cui è più facile sia la consegna sia il recupero dei rifiuti e quindi possibilmente aumentare ancora la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.